Sono Giorgio Baradel e coordino la filiale di direzione di Napoli. Sono contentissimo di essere stato selezionato perché sì mi sono impegnato molto ma l'opportunità di essere in questo contesto a confronto delle realtà molto eterogene dell'azienda farà sì che mi porterò dietro un bagaglio per quello che faccio ma soprattutto per quello che dovrò fare. Grazie